Pareti viola, scaffali ben in vista e un salottino accogliente all'ingresso. La biblioteca della Besurica non sembra più la stessa di prima. L'amministrazione comunale ha infatti terminato i lavori di riqualificazione necessari per ottimizzare gli spazi dopo l'accessione di una stanza confinante all'ambulatorio medico della misericordia. Il nuovo allestimento è stato inaugurato con volontari e residenti del quartiere. Era un punto prestiti, è diventata biblioteca, sono state abbattute pareti, allargati i spazi ma soprattutto sono arrivati nuovi arredi che oggi vengono inaugurati, presentati con una dotazione libraria molto ricca. Nel corso del tempo tante associazioni del quartiere residenti sono interessate allo spazio, lo hanno frequentato, hanno organizzato iniziative in collaborazione col comune. Quindi ovviamente siamo molto contenti perché oggi siamo qui a inaugurare un nuovo allestimento e da punto prestiti nel corso del tempo lo spazio si è trasformato in biblioteca, quindi un veramente luogo molto importante per il quartiere. L'auspicio dei volontari è che si tenga ben presente la necessità di spazi non solo a fini culturali ma anche sociali e aggregativi, covid permettendo. Ci sembra estremamente importante coniugare cultura e socialità perché cultura e socialità fanno parte di un disegno generale di benessere e qualità della vita che è molto importante soprattutto in questo periodo. Adesso fuori dalla biblioteca della Besurica c'è anche un albero della speranza. Terminate le vacanze sarà piantato nel giardino in modo che rappresenti una continuità. Quest'anno non abbiamo la bete ma Natale diverso con un albero diverso che rappresenta qualcosa che porti una prospettiva nel futuro.